Eccomi qui con la nostra persona a presentarmi. Come vedete quest'anno ci sono anche noi. E? Visto che pochi sanno cosa vuole dire Antani. Eccovi la spiegazione. Rematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permette. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scrivai come falina, come antifurto per esempio. Si parla da più di dieci anni di Open Data, ma spesso vediamo cose brutte brutte. E così ho deciso di segnalarle con dei meme su Twitter. Tra l'altro vi faccio notare che il mio avatar ha una supercazzola di suo. I miei meme vogliono ironizzare su chi proprio ha le idee confuse con le licenze. Chi ad esempio pensa che N ci voglia dire Open Data. O chi segnala una licenza aperta da una parte e poi pubblica i dati con una licenza che non permette le modifiche. E la confusione aumenta esponenziale anche in altri casi. E spesso l'incoerenza regna sovrano creando sempre più supercazzole con richieste di dati per accedere ai dati. La nostra persona però sa essere anche gentile. E quando vede cose belle, ma belle belle. Cioè, maestro che cosa vuoi che io faccio per te? E lui rispose love, love, love. E ci piace tanto celebrare tutte le persone che si battono per migliorare la situazione dell'Open Data in Italia. Comprese le pubbliche amministrazioni che riescono sempre a sorprenderci e darci energia. Abbiamo però sempre più bisogno di lavorare per risolvere diversi problemi. Abbiamo dati rilasciati con permessi assurdi. Oppure dashboard che, anche se utili, spesso non permettono di accedere ai dati per rielaborarli o, peggio, che sono molto complesse per veicolare poi poche informazioni. Anche se c'è ancora chi fa il birichino, rimane il fatto che i dati aperti sono una realtà sempre più forte però ci sono ancora dei limiti da superare. Bisogna spingere sulla qualità. E poi ci sono sempre quelle grandi sfide di dati che non sono ancora stati aperti e che, forse, non lo saranno mai. Ciascuna e ciascuno di noi è openantali. Combattiamo le supercazzole con le supercazzole e miglioriamo il mondo dei dati aperti e non solo. Sali con me, noi. Grazie